Tra Siriza e Podemos esistono delle sostanziali differenze come forze politiche. Siriza è una costola del vecchio movimento operaio che è riuscita ad emanciparsi dalla tradizione socialista. Il Podemos è la risultante politica di un movimento classico, di quei movimenti che sono partiti dal 2011, che ormai cominciano ad avere una storia estremamente importante, un po' dappertutto nel mondo, ma soprattutto in Europa e fondamentalmente in Spagna. Che cosa li unifica? Li unifica effettivamente il rapporto che stabiliscono con l'Europa. Sono movimenti che si riconoscono nell'Europa, che non vogliono uscirne perché comprendono immediatamente con grande efficacia che il rapporto all'Europa è l'unico modo per esistere oggi in un mondo globalizzato che è diventato sempre più un mondo di continenti che si organizzano l'uno nei confronti dell'altro. La globalizzazione, c'è stato un tentativo americano di un colpo di Stato, l'abbiamo chiamato al suo tempo, di stabilire un rapporto globale e un comando globale in forme dettate dalla Casa Bianca. Questa cosa non è riuscita e si è aperta con chiarezza, ormai è una lotta di classe a livello internazionale che ha le sue propaggini anche evidentemente e soprattutto per quanto ci riguarda nel rapporto tra Grecia e Spagna e strutture neoliberali, strutture di una democrazia che si è fortemente consolidata attorno a forme giuridiche, costituzionali e a forme economiche e politiche come una struttura di controllo e di dispottismo effettivo sui lavoratori. Su questa costituzione materiale fondamentalmente è quella che è la nuova realtà del proletariato europeo, un proletariato cognitivo essenzialmente, un proletariato che produce su tutti i livelli sociali, non semplicemente nelle fabbriche, anche ovviamente nelle fabbriche, ma anche su tutto il livello sociale e quindi i grandi problemi che si pongono per estrarre profitto da queste forze, da queste forze vive del lavoro, il grande problema che si pone è quello della fiscalità, dell'uelfare e delle forme di cittadinanza. C'è evidentemente uno squilibrio enorme tra quella che è l'attuale struttura e costituzionale europea e le esigenze di queste forze. La struttura costituzionale europea è per oggi completamente funzionale al dominio neoliberale, cioè del capitalismo finanziario mondiale. Noi abbiamo assolutamente bisogno di muoverci invece a partire dalle lotte. Queste lotte sappiamo perfettamente quanto sia difficile farle attraversare semplicemente il contesto nazionale, non solo difficile, ma a certe volte questa difficoltà è anche il sintomo di una immaturità e di una chiusura. Dobbiamo fare in modo che questa lotta di classe si sviluppi invece sul livello europeo. Io penso che i cittadini e i lavoratori greci ogni volta che andavano sulla piazza della Costituzione a urlare il loro bisogno di uscire dalla povertà, di uscire dall'austerità, la necessità di riprendere, a produrre e quindi a distribuire in maniera equa i frutti del loro lavoro, questi veramente conducevano la lotta di classe contro i padroni europei. Dobbiamo effettivamente riuscire da questo punto di vista a sviluppare una Costituzione materiale nuova che vuol dire una Costituzione materiale fondata essenzialmente su un potere costituente, su una capacità di rappresentarci politicamente. Questo dobbiamo farlo costruendo forze nazionali che si collegano immediatamente sul livello europeo. Io prima di tutto penso a una cosa che mi ha molto ferito ultimamente, negli ultimi mesi, e cioè come i movimenti in Italia, molto meno in Germania, ma soprattutto in Italia e in Francia, siano stati assenti dentro questo formidabile, enorme sviluppo della lotta di classe che si è dato nel conflitto tra Grecia e Unione Europea. Io ho come l'impressione che l'accumulare delle realistiche considerazioni attorno a quella che è la capacità di articolazione del potere europeo, la sua complessità, la sua dimensione geograficamente discontinua, ma comunque decentralizzata, eccetera, eccetera. Cioè tutte le cose che ricordavi tu, ecco, che questa cosa abbia forse impedito e comunque non abbia dato spazio a quella che era la necessità di muoversi, di costruire lotte su questo terreno, direttamente su questo terreno. Io non capivo veramente, forse perché vivo lontano, forse perché sono invecchiato, perché dei grandi fenomeni di lotta di classe non dovessero chiamare la solidarietà diretta ed immediata da parte dei movimenti, di movimenti che sapessero agire. C'era come se i movimenti avessero così assorbito quella che è una meccanica passiva di costruzione dell'Europa. Noi potremmo cominciare a parlare di una nuova Costituzione europea solamente quando avremo esattamente come Siriza o esattamente come in questo momento transitorio e difficile, certo, ma efficacemente comunque, Podemos, hanno fatto. Si tratta di mettersi in lotta, è solo dentro la lotta che nascono quelle che sono delle prospettive costituenti nuove. E' solo la forza che costruisce Costituzione, non è certamente quella che è un'assenza quale oggi è avvenuta e quale temo possa continuare. E' da questo punto di vista che è assolutamente centrale, assolutamente fondamentale costruire nelle forme che saranno quelle necessarie di un processo italiano. Noi non siamo, dico, in Italia non possiamo essere né una costra del movimento operaio, perché il movimento operaio purtroppo è morto, è questo enorme cadavere di cui sentiamo la puzza, no? Di tutta una tradizione che una volta si è chiamata comunista e che purtroppo è finita. Siamo in una situazione in cui la parola socialismo ha completamente perso ogni senso. Siamo in una situazione in cui purtroppo persino la parola sinistra diventa qualche cosa che non ci fa più capire. Sappiamo perfettamente che possiamo agire su un terreno che è un altro, possiamo agire su forme di lotta, che sono forme di coalizione, che sono forme di mutualismo, che sono forme in cui si costruisce effettivamente una verticalità e la si costruisce però attraverso le lotte. Ora, tutto questo deve essere fatto. Non possiamo riempirci la bocca di difficoltà sull'Europa finché non abbiamo costruito un'asse fondamentale che combini l'orizzontalità dei movimenti con una verticalità di azione politica.